All'ora di punta nella strada che porta al Colosseo regna la desolazione. I turisti ad entrare in uno dei monumenti più visitati al mondo si contano a vista. Per gli altri importanti siti di Roma lo scenario è lo stesso, transenne vuote, nessuna fila. Nella capitale arrivavano circa 300.000 viaggiatori al giorno, adesso appena un migliaio. Una situazione che si riflette nel resto del paese, dove nell'ultimo trimestre sono stati 30 milioni in meno gli arrivi nelle strutture ricettive italiane. Siamo arrivati a luglio e di solito siamo in piena stagione in questo momento, per cui purtroppo i dati che registriamo hanno una doppia valenza negativa. A soffrire con il turismo è il commercio, i trasporti locali e tutta una serie di altri elementi. Per incentivare la ripresa al via da domani il bonus vacanze, intanto a rimetterci sono le attività che vivono di turismo. Molte resistono, altre hanno chiuso i battenti. Abbiamo perso il 90% del lavoro, parole povere, per una struttura come questa, dove il turismo è la parte essenziale del lavoro. A soffrire di più sono le città d'arte, da nord a sud del paese. Il mercato del souvenir tirava stagionalmente al suo momento, adesso invece è del tutto fermo. Molte strutture hanno riaperto, ma riaprire non vuol dire assolutamente ricominciare a lavorare. Per cui abbiamo aperto ad esempio gli alberghi a partire dal 27, altri apriranno i primi di luglio, ma c'è veramente pochissimo lavoro.